E veniamo a noi, Max Barile, eccoci qua, tutto bene? Voi siete stati qui due anni fa, due anni e mezzo fa ormai e siamo in debito con te, perché due anni e mezzo fa abbiamo dovuto interrompere la tua esibizione per motivi di tempo adesso il tempo c'è, che cosa ci fai vedere? Allora, guarda, ho pensato di fare questo, è un effetto molto bello, è facile da seguire essendo mattina, sai, è il gioco delle 5 carte rosse si chiama così perché si fa con 5 carte rosse di dorso e di faccia, sono di cuore infatti sono 1, 2, 3, 4 e 5 carte rosse quindi ho detto, è facile da seguire, cosa deve succedere? se ne prendono 1, 2, 3, 4 in questa mano e 1 in questa ora la carta rossa che è in questa mano è che non è nera, è diventata nera nel frattempo scusate, il gioco è nuovo, non l'ho provato vabbè, in effetti è nera, la togliamo, non è un problema lo faremo con 4 carte, signori e signori e ladies and gentlemen, il fantastico gioco delle 4 carte rosse abbiamo 1, 2, 3 e 4 carte di cuore quindi cosa deve succedere? se ne prendono 1, 2, 3 in questa mano e 1 in questa ora la carta rossa che è in questa... eh no, è di nuovo nera è di nuovo nera di nuovo nera scusate, è imbarazzante questa cosa però vabbè, lo faremo con 3, poi 3 è il numero perfetto sai com'è, viene anche meglio quindi abbiamo 1, 2 e 3 carte rosse gioco bellissimo, con 3 carte viene meglio quindi se ne prendono 1, 2 in questa mano e 1 in questa ora la carta rossa... allora c'è qualcosa che non va insomma, ce n'è 1 che diventa improvvisamente nera vabbè, in effetti... vabbè, allora lo faremo con 2 carte che è più veloce quindi abbiamo 2 carte... sono 2? ok, sono rosse? perfetto, ok quindi era con... era... era con 2 è l'emozione, era 1 in televisione se ne prende 1 in questa mano e... ok? e 1 in questa ora la carta rossa che è in questa mano che c'è? anche quella... no, no, questa volta è rossa questa sì, l'altra no facciamola con 1 vabbè, lo facciamo con 1 allora, signori e signori, fantastico gioco della carta rossa gioco molto bello che si fa con una carta che... vabbè può diventare anche nera non ti chiederò come funziona anche perché io... di rifarlo perché ai maghi non si chiede mai di fare 2 volte lo stesso gioco anche perché io non l'ho capito quindi... invece, una cosa che ci hai promesso cioè, ci fai prima un gioco e poi ce lo spieghi ecco, giusto per fare gli splendidi con gli amici quando poi facciamo vedere che noi siamo dei maghi a casa infatti, infatti, ho pensato a una cosa che possa essere funzionale veloce, facile da imparare e comunque d'effetto, d'impatto ti chiedo di aprire le mani mettiamo un mazzo di carte qua uno qui qui c'è una mia previsione, vedi? quando lo farai tu farai il ganso ho la previsione ecco, inquadriamo la previsione mostra di nuovo ecco, per il momento non sappiamo cosa c'è scritto c'è scritto previsione ecco, una previsione a tutti gli effetti ovviamente è dentro allora, quale di questi due mazzetti vuoi? con quale facciamo l'esperimento? ma io direi con la mano sinistra scegliamo il mazzo della mano sinistra sei convinto? ok, puoi scegliere quello che vuoi queste che ci faccio? e queste niente ora, guarda io qui avevo scritto leggi, se vuoi, leggi tu prevedo che verrà scelto il mazzetto di 7 e infatti tu hai voluto giocare con queste carte e guarda, non è un caso il fatto che siano le carte composte da 4-7 da i 4-7 e ovviamente se qualcuno dovesse pensare che anche questi sono 7 qui non ci sono 7 non ci sono 7 e... come si fa? come ci sei riuscito? allora perché ho scelto esattamente? non c'eravamo messi d'accordo ovviamente assolutamente no allora, potrei dirti perché te l'ho imposto mentalmente però in realtà è molto più semplice non ci crederei allora, guarda il trucco è molto semplice tu hai queste 4 carte che sono i 4-7 e poi hai queste carte qui che se andassimo a contarle ci accorgeremo che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carte per cui il segreto è questo se lo spettatore come hai fatto tu sceglie questo mazzetto tu mostri che è un mazzetto formato dai 4-7 se per contro lo spettatore dovesse scegliere questo tu dici guarda l'avevo previsto infatti qui c'è scritto lo spettatore bla 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 sceglierà il mazzo di 7 e conti le carte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 avremmo indovinato sempre infatti laddove ovviamente lo spettatore ti potrebbe dire anche quelle sono 7 tu dici no sono 1, 2, 3, 4 carte e il gioco è fatto e il gioco è fatto e vinci tanti caffè al giorno ci proveremo ci proveremo grazie a Max grazie a te